Io sono qui con il vice sindaco di Ponte Nè, Angelo Piri, buonasera. Buonasera. Ci troviamo qui al Teatro Era, appunto per questa stupenda manifestazione che si terrà qui stasera. Lei prima mi stava dicendo una cosa molto bella e molto importante per il Teatro Era. Sì, infatti, perché il Teatro Era insieme al Teatro La Pergola di Firenze è diventato teatro di interesse nazionale. Il 24 di febbraio, a dire il vero, è arrivata la comunicazione direttamente dal Ministero con la lieta novella. Per cui, insomma, è una cosa assolutamente che ricompensa gli sforzi fatti da tantissime persone che lavorano qui e hanno lavorato in passato per far sì che questa cosa si potesse realizzare. Quindi, come amministrazione, ecco, sono veramente contenta. Ecco, appunto, il Lions Got Talent qui al Teatro Era. Allora, il Lions, un connubio perfetto tra lo spettacolo e la beneficenza. Sì, assolutamente. Ecco, quando io mi sono insediata nel comune di Ponte Nè e ho preso l'incarico, ho detto che questa giunta sarà assolutamente high tech, il mio assessorato sarà un assessorato high tech perché io sono un ricercatore e insieme a questo ho detto, ho anche la cooperazione internazionale e quindi questa sera è il mio, nel senso che la beneficenza unita alla scoperta dei talenti è una cosa eccezionale. Quindi sono contenta che ci sia questa manifestazione che sia fatta qui a Ponte Nè e speriamo di raccogliere tanti soldi e darli in beneficenza. Certo, e lei di recente ha partecipato in Nicaragua ad un progetto molto importante della cooperazione internazionale. Sì, Ponte Nè è una tradizione molto importante sulla cooperazione internazionale. Tra le altre cose chi mi ha preceduto, Massimiliano Sonetti, prima aveva addirittura la delega della cooperazione internazionale e del lanci nazionale. Quindi Ponte Nè è in questo senso molto attiva e il mio assessorato continua a essere molto attivo nella cooperazione internazionale. Sono andati in Nicaragua perché abbiamo ovviamente dei progetti nostri e poi siamo andati lì per discutere un progetto della comunità europea che è un progetto che verte sul golfo di Fonseca e che è un progetto tri-nazionale perché unisce l'Honduras in Nicaragua e il Guatemala. Pare che questo progetto alla fine parta e vada bene e quindi è stato un viaggio proficuo. Quindi insomma un sacco di appuntamenti anche per Ponte Nè. Ora non svegliamo niente però prevedo che ci saranno un sacco di belle cose per Ponte Nè. Sì, tantissimi appuntamenti. Fra le altre cose il prossimo grandissimo sarà una notte bianca. Però prima ci avremo anche la Mangialonga che è una bellissima iniziativa, una lunga passeggiata che si fa nel comune di Ponte D'Era e quindi invitiamo i cittadini non solo a partecipare, i cittadini di Ponte D'Era a partecipare ma anche chi non è di Ponte D'Era perché la nostra è una città assolutamente accogliente e bellina. Benissimo, grazie mille. Grazie a lei. Buonasera. Grazie. Grazie.